Prosegue l'impegno di Poste Italiane nella lotta al virus a fianco delle istituzioni. Il Corriere Espresso SDA in prima linea nella consegna dei vaccini recapiterà da domani sull'isola ulteriori 76.100 fiale moderna, di cui 6.600 destinate alla farmacia ospedaliera di Agrigento. Sono di Poste Italiane anche i canali messi a disposizione per le prenotazioni delle inoculazioni di prima e successive dosi. I cittadini, lo ricordiamo, possono infatti prenotarsi tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.cov.it, tramite il call center dedicato, attraverso i 689 sportelli ATM Postamat o tramite 2200 portalettere dell'isola. L'attuale fase di picco pandemico, unitamente alle disposizioni in vigore che regolamentano gli accessi alle sede di Poste Italiane, hanno comportato una parziale riorganizzazione dei servizi offerti per limitare al massimo gli assembramenti e tutelare la salute di clienti e personale. È consigliato dunque rivolgersi agli uffici postali soltanto per le operazioni necessarie e indifferibili e a utilizzare, quando possibile, i canali di accesso digitali per i numerosi servizi disponibili. È anche recentemente possibile, ad esempio, ricevere online in tempo reale la documentazione attestante ai rapporti intercorrenti con poste relativi al 2020 e necessari per la presentazione dell'attestazione ESEE. In tutti i casi, al fine di garantire un accesso in sicurezza per i dipendenti e i clienti, presso gli uffici postali della provincia di Agrigento restano in vigore le misure di sicurezza finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19. Grazie a tutti.